Ciao dalla Quilagine Rossa, si, si ragazzi, si, 1-0, Curcio, dai, va bene così, purtroppo non ho potuto vedere la partita, non so dove si poteva vedere come sapete Coppa Italia, come ho detto oggi nel video, sono diritti di Mediaset ma non hanno dovuto far vedere i 32esimi quindi porte chiuse, si può vedere la partita, quindi vabbè, ci sono a perdere quindi non so se abbiamo giocato bene, se abbiamo giocato male, se... non lo so, non si sa niente comunque l'importante è 1-0, con gravi problemi in attacco, in attacco l'abbiamo visto oggi, l'abbiamo parlato oggi vi nel video andate a vedere, perché sarà senza Iemello e Biasci e dai, la prossima è contro Udinese ragazzi, bella tosta eh, tosta lì come va va, è importante giocarsela, far bella figura e... fa gamba per noi, fa esperienza per noi sarà comunque molto utile, intanto abbiamo un po' sotto questo turno e... contro il Forge appunto, dai, e niente, me ne scappo ragazzi like, condivisione, iscrivetevi, iscrivetevi, commentate, che io voi sapevo questi momenti cosa ne pensate e campanella, e niente, forza, qui dai, ciao